Un'emergenza ambientale in piena regola, quella che ci è stata segnalata da alcuni amici che ci seguono. Siamo nel torrente Gennarito, nel comune di Corigliano Calabro e guardate alle mie spalle che cosa c'è da, non diciamo qualche giorno, ma un po' di più. Noi non ci siamo avvicinati perché ormai è arcinota la pericolosità di questi rifiuti speciali che non dovrebbero essere qui, non dovrebbero essere in un letto di un torrente. Questa è una vera e propria segnalazione, non vogliamo fare nessuna polemica, nessun atto di accusa. Bisogna intervenire al più presto perché potrebbe essere molto dannoso per la salute di tutti i cittadini, ancora di più di quanto lo è ora, se restassero qui queste cose, se poi col passare delle acque, con le piogge potrebbero arrivare anche al mare. Quindi davvero è molto pericoloso questo stato di cose. Come potete vedere dalle immagini sono tantissime le lastre di Eternit. Noi abbiamo percorso il torrente Gennarito per tutta la sua lunghezza e abbiamo trovato decine e decine di lastre, tanti rifiuti elettrodomestici. Non è un atto di accusa, ripetiamo, ma è solo una richiesta di intervento immediato.